Sì, siamo dei campioni, è meglio tutto quanto, ora teniamo tre centri avanti, ma fa paura ancora tutto quanto. Real Madrid, Real Madrid, state accorto a te, Real Madrid, Real Madrid, state accorto a te. Olè, forza Napoli! Grandissimo! Siamo a Madrid! Che io sono un tifoso del 53, con Maradona 3, due scudette, ci viste, e io terzo vorrei avere. Con l'insegna, Mertense e Cagliegon, non è di trent'anni, non voglio aspettare perché non so se si stuca ancora qua. Grandissimo! Grazie.